Ciao a tutti ragazzi, qui è Ola Burra e benvenuti a un nuovo episodio di 60 Seconds! Mi sono mancato, eh? Eh, eh! 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 Hai visto, eh? Tu, che mi stai guardando, ho messo la telecamera, perché io sono un uomo di un'alta tecnologia. No, vabbè. Vi ho portato 60 Seconds. Volevo provarlo, perché sembra un gioco tanto carino, vedi là, dirigibile, guarda che carino. Vabbè, il gioco consiste, scoppia la bomba nucleare, devi cercare le tue risorse e sopravvivere. Ci vediamo dentro. Allora, noi siamo Ted e abbiamo circa 40 secondi per cercare il primo a tutte le cose dove sono posizionate. Ok, il kit medico sta là. Ti, 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 il bambino. Boom, barabum! Il bambino sta qua. Ok, allora, comincio da qua. L'accetta. Eccolo, eccolo. Allora, libro dei giorni carcotte. Le gatte, così abbuffo. Cara, la mappa. Corri dentro. Eeeh! Ok, poi. Timmy. Si chiama Timmy? Non mi ricordo ora. E l'acqua. Ora, poi andiamo in bagno. E togli di mezzo! Nel bagno prendiamo il kit medico. Allora, il fucile ho visto sta lì. Kit medico. Cibo. E acqua. Uff! Andiamo a prendere la moglie. Ci sta la... Eccolo qua, la moglie. Vai. Eeeh! Bravo! Boom! Ancora manca la radio. Manca. Ok. Vabbè, ciccia. Fa un culo. Boom! Mo! Fucile! Eh, il fucile! Pialo! La radio sta qua. Ok, eccolo. Radio e torcia. Radio e torcia. Vai, 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 vai. Eeeh! Basta! Non ce la facciamo, sennò moriamo. Uff! Ok, abbiamo... Mazza! Abbiamo due acqua... Due bottiglie d'acqua. Una zuppa. Fucile. I viveri non c'abbiamo così niente. È stato un errore mio. Allora, i miei giorni penso che non cadano... Vabbè, due acqua e due zuppe. Cercheremo di sopravvivere. No, il primo giorno di solito non capita niente. Quanto ricordo, poi non lo so. No, non è successo niente. Ok. Team is good. Quindi bambino sta bene. Anche Dolores. E per Ted anche. Ok. Allora, io comincerei a mandare fuori Dolores. Così cerca un po' di... Peculiar. This is the world. Shelter. Let's be sharing. In poi... Heartquake. Hold on. È la radio? Assolutamente, sì. E se tocca via la radio? Cioè tocca ottenesse la radio. Per sentire i militari. Vedete? La maschera e la doccia ti sono rotte, quindi dolore sono un po' più sci E vabbè, ciccia Aspetta, non ho visto Ecco, allora Timmy deve bere Dolore deve bere e te deve bere, quindi devo bere tutti Boom E tre quarti di bottiglia soldati Allora non faccio più sci nessuno Quindi ci mando Timmy domani Allora, modello di Rottenzo e l'attacco non so Ah Devo dire che devo uscire proprio Boom, boom, faccio un culo così tipo Dai, sexto giorno Eh già Ovvio, che bello Ah, già ci sono rotte tre cose Siamo al sexto giorno Vai così Acqua per Timmy Non ci va acqua perché tanto vai fuori Dolore sacco, ok E te deve bere qualcosa E te del dolore se te bevono E Timmy va fuori Vai Date Allora, due del dolore se niente Ok, non ce l'ho niente E la mosca si può schiacciarla No Vabbè Siamo alla radio magari succede qualcosa Magari incontriamo i soldati o qualcosa del genere Ma non l'hanno rotta E questo è già un passo avanti È un po' di dolore se... E Tante c'ha fame Eh, non sapevo niente inutile, c'era qualcosa che si muove nell'ombra e qualcosa di cattivo. Cos'era? Meno uno. Scomparso e si è fregato una ciotola di zuppa e entrambi hanno sede. Perdemo già adesso, ha già il demonio. Giornò 10. E ci abbiamo. Neak, Satisfine e Dolores deve mangiare qualcosa. Dolores mette l'anima in pace che qua deve morire da fame. Chi si può pensare che Dolores è stato salvato la cosa in questo momento. Famolo, così è buffo. Intanto, come va va? Degli 11. Niente di nuovo. Ah, che bello! Sì, però, come... Right. We should share the stupid so we did. She seemed happy. We didn't have to... Dai, Timmy, torna. Torna sti giorni. Usiamo il libro... Ah, ok. I ragni. Usiamo il libro dei giorni marmotte, là. Oh, una zuppa in più, dai! Sì, eh. Ah, io non ho fatto... La zuppa di ragni sono fatta. Pfff! Ahahahah! Che schifo! What is... What is... What is Ted? Io, sinceramente, glielo darei Ted, là, qua. E sennò... Vai arrivati a scoprire... Ok, penso che dovrebbero usare la radio per dare, tipo, le coordinate o una cosa del genere. Non lo so. Oh, Timmy! Ah, si è ammalato, parca miseria. Vabbè. Ha portato... Ha portato un sacco di roba. Guarda, ho quattro zuppe, quattro acqua... E più la maschera, però la maschera ce l'abbiamo. Bravo, Timmy. Sono proprio fiero di... Bravo! Ci ha fame. Dolores ha sete e Ted ha fame. Quindi Ted ha fame. Timmy ha fame e Rosita... No, è Rosita. Dolores ha sede. A sto punto... Io ci manderei... No, 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 no. Tanto per... Vabbè. Giusto, magari, non ci manderei Dolores. Timmy non ha detto una parola su questo, ma quando era in un'altra parte, 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 non era in un'altra parte. E vediamo qui il coso. Il medico, magari si guarisce. Perché c'era tipo qualcosa alla mano, ha detto quando è ritornato un po'. Eh, abbiamo spregato... Abbiamo spregato il coso, però vabbè. No, Timmy ma Dolores. Vai Dolores, rendici fieri di te. Proprio che c'è sempre che ci fai portico la roba, portico un... non so che... un codechino. Però prima vai qua. Tipo esce... Ah, di qua, di qua! Di qua, di qua! Io vorrei stare la guerra, un casino su per me in denaro. Usiamo le carte, magari, se devono intrattenere, che ne so, se stavano rompere le vacanze purelli, cioè da... più di due settimane, che non sanno che fanno. Lascia rifarsi, gioco vincere. Eh! Oh! Si è uscita più la mosca! Ok, dimmi c'ha sede... meno due! Ah, penso che tipo due hanno... Aspetta che era... Ok. Penso che due hanno tipo giocato a poker e hanno perso. Ok, è giusto. Ah, penso che con l'insetticida facciano il medikit, quindi magari ci danno... Tiè! Proprio... Qua c'è la natura! Eh! 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 La torcia non ce l'abbiamo perché l'abbiamo rotta con... il terremoto Earthquake. Si, terremoto. Eccola! Due l'acqua, la maschera è rotta... Eh, va bene, dai. No, no. Che ha portato? Ha portato... Una zuppa... Due acque! Si, quanto ho visto. Allora... Vabbè, la maschera è rotta... Ciccia! Timmy c'ha fame... Timmy c'ha fame e c'ha sede. Dolores... C'ha fame... Il terremoto è apposto. Quindi Dolores c'ha fame e sede... E... Timmy c'ha fame... Io direi da aspettare. Ah, allora... Allora... Se gli diamo le carte ci dà una zuppa. Ma la zuppa non ce l'avemmo, quindi no, non ci serve. Grazie per il consiglio. Facciamo passare altri giorni... Ti diamo sull'esternale di chat... Sì, usiamo un po' la radio e magari incontriamo qualche aiutante... Qualche sopravvissute... Hanno rotto una radio. C'è, per girare una manovella fai così, non è che ti piava a cazzotti e quindi la rompi. Perché? Sì... Oh! Tipo a sbile con la lunguità... Ok, ora dopo mandiamo Timmy un'altra volta se vuole andare a uscire fuori. Quindi se non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ok. Ehm... Niente, quindi dovete mangiare e bere... E ci mando Timmy fuori che ci vuole uscire. Perché quando guarda in alto penso che guardi tipo fuori, vuole uscire. Ti vuole fare un viaggio. Ok... Allora... Devi vedere quello che ho trovato ora, che è sempre sweet... Aspettate di bere qualcosa. Abbiamo bottiglia e mezza, stanno qua non ci abbiamo niente. Mmm... Allora, al primo lavoro... Allora, la ventilazione è tipo rotta. Quindi dovevano usare il libro delle giovani marmotte per... Ok... Ma che è successo? Allora... E io le elementi delle giovani marmotte per... Allora c'ha sete. Allora c'è una sete della fame e sta ammalato. Io vorrei... Io lo guarisco, eh. Usiamo la cosa... Il libro, perché magari riusciamo a truffiare qualcosa di utile. Ecco, ad esempio... Per esempio, che la zuppa ci ha dato che è successo At this time... Baller No, niente Vabbè, intende che sono andato bene tanto Giocavo Tanto, una roba ce l'avevo Massimo l'acqua, se perdono l'acqua è un casino Eh, piove Oh, no, abbiamo vinto il cibo Fogli tutti Tiè Allora Dolores deve mangiare Quindi Dolores mangia tutto quello che ti pare Basta che non bevi, ci abbiamo donato un'acqua C'è un'acqua E' ancora il giorno 29 stiamo Oh Tim mi è tornato Ho portato l'insetticida e basta L'acqua Niente Una zuppa La zuppa ce l'avevo? Ah, un'acqua Vabbè, un'acqua ha portato Ma 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 Allora, quindi Vabbè, i maschietti ci hanno fame Padre e figlio mangiano Team La potece Il da Mandiamoci Dolores Ma Dolores stava detto così Dio Che non mi mandami per un indietro Ma che devi trovare qualcosa Però la mandiamo da un'altra parte Mandiamola qua Sempre se serve la mappa a fare quella cosa Poi non lo so Ok Ma il papeciccio siete quei due Cioè chi ha sede ha sede Chi ha fame ha fame Non ho capito Dolores Vai portaci tutto quello che trovi Deruba l'intera città Allora Dolores Vabbè Timide mangiare qualcosa Ok Ah no Stabotta timide mangiare soltanto Ok Ah E' compriendo dei timi Tanti auguri a te Tanti auguri a te Vabbè ragazzi Qui finisce il video Ricordati di mettere un bel pollice opponibile Ti condividere Ti commentare Ci vediamo al prossimo video Poi capiremo come andare avanti Ciao Ciao